Sosteniamo con piacere questa prima edizione del Fano Fitness Festival perché sposa molto da vicino il sistema valoriale di TechFam, soprattutto per l'attenzione all'attività sportiva e al movimento come valore fondamentale del benessere psicofisico anche dei nostri lavoratori, tant'è che adottiamo pratiche analoghe anche all'interno del nostro sistema di welfare aziendale. È la prima edizione, diamo fiducia a questa compagine di ragazzi giovani che credono nello sport di tutte le tipologie, accessibili a tutti e quindi molto inclusivo per tutte le fasce d'età e tutte le abilità e soprattutto perché tende anche a valorizzare le bellezze della nostra città. Sarà sicuramente una bella iniziativa che ci terrà compagnia per tutto il weekend e la troveremo nei luoghi simbolici della nostra città, nel centro storico dove tutti potremo recarci e prendere parte. Ci saranno anche momenti convegnistici per approfondire delle tematiche molto interessanti e anche di benessere psicologico e invito tutti a partecipare.